Ok, bella a tutti ragazzi, io sono Alex Ok, io sono Alchisius e oggi ripetiamo con Skygrind 3 No, Skygrind è episodio 3 Episodio 3 Allora, cosa è cambiato? Tutto è cambiato No, tutto, tutto La casa Allora, gli sempre rumori stagli Niente, abbiamo fatto la casa con due piani Molto fighi, non solo cosa ci facciamo Ma, è sfida Quindi magari ci posteremo le casse giù Quando ho tutto il tempo Un'altra semina è cresciuta nel frattempo Sì, quindi abbiamo raccolto il gram Ce ne manca uno E abbiamo anche l'armomia Potete osservare che ne manca uno Potete osservare che faremo il pane? Forse Se cresce Ah, ok Se no mi arrabbiamo E adesso possiamo fare il pane Il pane di Dio Ok, aspetta che faccio Un'altra zappa No, perché? Guarda 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 Oh, ci facciamo il pane, dai Carriamo la sesta cosa La sesta, la sesta Sesta cosa Sesta cosa Sesta cosa Sesta cosa Sesta cosa Sesta cosa Sè Fai un arco Un arco Cosa? Eh, beh, ci sono alcuni ragni Ci saranno i ragni Ho due cose Mi ne manca solo uno Ho due stringhe Perché prima porta? Perché? Ti spiego Eh, l'altra cosa Che abbiamo cambiato È lo spawner Che abbiamo spawnato tutto Che abbiamo cambiato tutto Guardate qua Abbiamo fatto alla perfection Perfetto Proprio magnifiche E stanno già spawnando qua È di 5x5 Perché così non passa Perché? No, anzi però Ho spawnato Perché devo metterla tipo Alla Dove c'è il ruolo Perché non è Eh, infatti Maddonna Che casinò Che spavento Allora, tecnicamente I cosi possono spawnare Solo in una zona Di 4x4 Dallo spawner Noi cosa abbiamo fatto L'abbiamo fatto di 5 Sì Siamo dai pro Siamo fattendo solo Sì, è morto E niente Sono stati qua Un po' a uccidere queste Per questo che avevano preso Oddio Sono tantissimi Funziona anche troppo bene Forse Oddio 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 Guarda la roba Eh, sei un po' morto Oddio Via, via, via Aspetta, c'è qualcosa altro Via, via, via Via No Vai, corri Corri No No Ti prego Sì Ci sta picchiando Cosa Ma cosa Ma non li vedo Ma si è bancata Ma cos'è È invisibile Non lo so E cambia la spada Cos'è scricciato Cos'è scriacciato Mi sa che muori Sono bancato Sono bancato Mi stai bazzando Com'è possibile No Cos'è successo Perché apri un mondo In crati No ma cosa 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 Oddio No ma si ammazzano E' nato lì Coglione Sono qua Mi hai fatto Fatti uccidere Eh si mi ammazza Perché ti stanno sputando Le spuntine lì Non per tutto Ma la spada è volata Quindi c'è sicuro Dove è volata? Là Forse No Perché è arrivato Non lo so Perché possiamo di arrivarci Ah ok Quello pensavo di arrivarci Vabbè riprendere le due cose Muoviti Sono cadendo le lucine Prendere le lucine E chiudere la porta La lucina La lucina La lucina Non c'è il micro scherzo No non c'è qua su No Non c'è cosa Si c'è Invece c'è lì Il cosa Il cosa Io lo chiamo la cosa Allì è lì Si non l'ha preso Perfetto Ok Funziona anche troppo bene Forse E Dobbiamo fare l'arco Quindi ci saranno i ragni Quindi Quindi è un problema Perché io devo togliere Dalle torce Eh sì C'è una funzione di manga Stavo dicendo Se vedete qua Tipo C'è scritto Light 15 sky 11 block Deve diventare Light 8 E tecnicamente Se diventa 8 Di notte Possiamo spawnare Anche altre cose Quindi aspetteremo Adesso purtroppo Non è notte E quindi Aspettare 8 anni Perché diventiamo Te ne vedete Quindi cosa facciamo In frattempo Andiamo a mangiare Criati stiamo Spaccando L'albero Abbiamo un po' Ampliato Così magari I sapling Non cadono Si Ma quanto dura Il giorno Ma cavolo Ma la terra E cioè Le foglie Qua tipo dove metterò Il sapling Ma no perché Perché mi sta simpatico Ma a volte tu mi sa che mi sa che mi sa che siamo su 4 sapling Perché è dark Questa cosa qua È dark È tipo l'albero della giungla Si ecco è tipo quello Abbiamo visto che c'è spawnata l'isoletta La Ah è vero è spawnata una nuova isola Che è quella Quella del Non siamo neanche andati Andremo presto Si sta togliendo la foglia Si no Non so Si si Oh Oh sapling Vai vai Riprendilo E se stai sotto Tipo li prendi Tutti Ah lì c'è un altro Oh oh Si hanno già 2 Si hanno già 4 a 2 Eh dai Devono spawnare almeno 4 Se no Siamo fottuti What Cosa Ho preso Ho preso due volte shift Qualche volta Oh ma ne hanno già 4 Perché What No no What Si è venuto in faccia E non ce ne sei ancora Cosa 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 Stai dicendo Ah ti fai un'entrata Dalla degna di dio No Ti faccio No perché Perché Ma così non è simmetrico Eh vabbè Sono 4 Se fossero stati 6 No Si 6 5 5 9 Si è stato simmetrico Si può fare anche un albero da 9 No Ok Penso che ci sia un super albero da 9 E gli schietti che cadono Oh c'è un ragno sul spawner No Non mi fa cadere il shapling Ho il shapling Ho il shapling Ho il shapling Ho il shapling Prendi la spada veloce Che ci serve Non ti ha dato nessuna stringa l'altra Eccolo qua Eccolo qua E no è morto Quante Quante C'è serve Per far l'arco 3 Si Wow Salve a lei Si 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 Facciamo sto cazzino Posso anche rimettere i cosi li allora Che tenta lo spawner Com'è in guerra E infatti A mettere bastone 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 curvato Proprio Ma no E non è curvato il bastone Eh si bastone curvato Ah no è vero è curvato il bastone Perché non me l'ha craftato prima Eh giusto Bastone curato Si E la stringa La stringa E la stringa Cook Fai Eh No Dove ve lo trovavo il fesce Mi sei Mi sembra canona la flessca Misa No Quindi altre stringhe Sì Ok Non metterò laggiù le storce Allo spawn Ehm Però andiamo a guardare Una spada Oh Ma noi abbiamo un arco Tiragli le frecce È vero ho anche le frecce, oh sapele, prendono la campana ok oh, oh, fermo, fermo ah ma quella è una, ah è quella ah cioè ci ha spanato, quest'isola è più quell'altra eh cioè questa era quella del coso di prima eh sì, questa qua era quella del provai a distruggere un po' tutto, a vedere se c'è da perdere nooo lo sento dicendo però lì davvero, salve a lei nooo, no, 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 ok salve a lei, salve, addio a lei no ma quindi lì c'è un altro spawner proprio, di, Theensu perché non cada, non schierate con spade se non è strano, la smettano non deve cadere, no, tra l'altro c'è una testa non è una testa normale censusale, quei là di terra, così amico mio lei ha qualche problema, in internet non è anche lei, anche lei ha qualche problema lei mi vede, mi vede il mio presente, chi sono? perfetto mi seguo mi seguo mi seguo mi seguo sono una brava persona mi seguo ti sta seguendo ti guardo che cade ma dove va andare no 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 non farlo cadere venga qua cobblestone e fecce mi dà la cobblestone la terra cosa è la cobblestone? devo un attimo mettere delettore quindi provvederemo tanta cobblestone quanto terra abbiamo preso da quello spawner credo c'è ora io vai 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 subito ti serve il dispensabile per mettere una pesca oh no aspetta 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 c'è mi ha riusciresti no è adesso la qua lo vuoi se ci riesci la ragno guarda Ah! Lassman? No! Nooo! Perchè ti suicidi? Perchè? Perchè? Basta spreca il freddo Si, infatti Andiamo un attimo la... Che ho fatto troppo gli H No, aspetta... Troppo... troppo H Perchè mi ha detto? Perchè volevo metterli sul percorso Perchè possono spawnare sull'isola Ma non sul percorso Perchè si spawnano Creeper sul percorso Perchè si spawnano Creeper sul percorso Perchè si mette il percorso Ma non mi dico Nooo signora lei mi segua Mi segua, faccia il bravo Mi segua Ma il Shock è una brava persona quindi Se ne vada a fanculo Si, mi ha già morto mi sa Nooo, uno scheletro normale Si, con l'arco Due scheletri normali Giusto bene Ok, morto Sai cosa? Sai cosa? Aia Non ho un blocco Spawn amico mio Spawn Sei un po' Spawn amico mio Spawn, spawn Dai, confido in te Bravo Oddio, sto anche sorgendo l'alba Spawn Devi darmi a tutti i costi un blocco Detto Spawn amico mio Spawn Beh, basta che ti metti giù Provarti la spada No, basta far così No, è vero Ma qua mi muto giù E' la prova di scemo Un tocco Eh, prova di scemo Dai, questo te lo dà Questo te lo dà Previ Si, però Ce l'ha detto Partere via da qua Ok Anche la terra Volevo andare un attimo Prendere il piccone E andare a vedere l'isoletta Alla Si, c'è dal ferro Anche... Anche tanto Tanto, tanto Acqua Oh, l'acqua Pensavo fosse vuoto Forse acqua infinita Perché? Eh, visto che c'è dentro la... Vedi che è ferma Eh E' vero, si 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 E' un quadrato Ok ragazzi Io direi che per oggi Possiamo concludere qua Si Quando facciamo cuocere il ferro Mettiamo via il grano Prendiamo un attimo la... Cosen Tu concludi Ale Io faccio l'ultima cosa Ce la può fare ragazzi Quindi, niente Abbiamo fatto Siamo rimasti alla quest 7 Cioè, di cucinare un pesce E... Spiegherà molto tempo Si, perché dobbiamo fare la pesca Perché dobbiamo sistemare Uno, devo sistemare lo spooner io Si E lo faremo Senza registrare Si, perché Sennò dopo viene... Perché è lungo Si, è lungo E poi... Niente Ma cos'è? Mi hai già piaciuto l'albero Ma... Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto lasciate un commento Mettete mi piace Iscrivetevi E noi ci vediamo nel prossimo video Dove faremo la canna da pesca Quindi... Perché mi stai seguendo Se ne colpisci qualcuno Spamano dalla roccia Mi va... No, ci c'è No, abbiamo mancato... È sci, cos'è? Era... No, no Eh, però si aperte un bel buco No, c'è, c'è Io sono morto No, la lava, no No, la lava, no So, se l'ho rispondato qua Mi toccare di fare tutto il viaggio No, no No... 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 No...